Ciao a tutti, Motorbike Expo di Verona 2017, siamo qui allo stand Givi con Antonio Rizzini. Negli ultimi anni Givi ha notevolmente incrementato il numero di prodotti per i motociclisti. Abbiamo in catalogo una cosa come 900 accessori specifici per un numero incredibile di moto, abbiamo in gamma 8 linee diverse di borse soffici. Questo sicuramente non è per masochismo, ma è per aiutare gli amici motociclisti. Cerchiamo di produrre accessori che siano sempre più specifici per specifici generi di motociclette, così come per le borse, così per i caschi e così anche per gli accessori. È un'esperienza pluridecennale, ha una ricerca maniacale del materiale, della qualità, della qualità costruttiva. È tutto rigorosamente made in Italy, i bauletti sono rigorosamente made in Italy, e gli accessori sono rigorosamente made in Italy. Le novità di quest'anno sono una nuova famiglia di caschi, una nuova famiglia di caschi integrali, uno in fibra e uno in carbonio, e anche nuove linee di borse soffici, quali la Ultima T, che è una nuova linea di borse soffici, formata da borse standard in tessuto e da borse waterproof. A ognuno al suo congivi, quindi, ciao a tutti dal Motorbike Expo di Verona 2017. Ciao!